Torniamo a parlare di usura bancaria perché ci sono delle novità su un caso che abbiamo seguito praticamente fin dall'inizio grazie all'associazione SOS Abusi, a Maurizio Forzoni, una signora rimasta vedova, ha perso tutto, oltre ad aver perso l'azienda ha perso anche l'abitazione a cui era legatissima perché chiaramente non poteva pagare quanto richiesto dalla banca e però a un certo momento, Maurizio riepiloghiamo, è partita la vostra controoffensiva perché voi avete sempre sostenuto che quanto chiedeva la banca, il mutuo che la signora aveva acceso era viziato da altissimi interessi usurari Sì, innanzitutto, rilasciandomi da quello che lei ha detto, direi che questa signora ha perso tutto ma non la voglia di combattere e di lottare anzi, oggi è ancora più determinata di prima nonostante che abbia 81 anni e gli acciacchi dell'età e poi anche ovviamente uno stato anche depressivo dovuto ai fatti denunciati come noi abbiamo sempre parlato in questa sede, insomma, quindi ormai sono diversi anni, sono più di 8 anni che ci occupiamo di questa vicenda noi abbiamo sempre sostenuto che il mutuo era usurario ad origine, cioè praticamente erano state praticate le tasse usurari per cui l'esecuzione immobiliare doveva essere fermata perché quando c'è un titolo usurario è evidente che non si possa procedere all'esecuzione forzata. Oggi la Procura della Repubblica ha confermato questo e non poteva fare altrimenti perché facendo i conteggi in base alla legge e a regole matematiche l'usura è venuta fuori. Il dottor Rossi ha praticamente rilevato la prescrizione del reato perché ha detto che il contratto si riferisce al 2002-2003 per cui secondo lui sono trascorsi i tempi di legge. Parte il fatto che noi abbiamo contestato anche questo aspetto perché l'usura non è più un reato istantaneo ma è un reato che può assumere aspetti di tipo permanente come in questo caso perché fino a che chiaramente la banca richiede il capitale e gli interessi sulla base di un contratto usurario il reato non si prescrive e questo è un primo punto che abbiamo contestato. Ma al di là di questo fatto diciamo che ora è in mano ovviamente al giudice per le indagini preliminari al GIP c'è l'altro aspetto che comunque il dottor Rossi c'è la procura di Arezzo ha rilevato che i tassi sono usurari per cui questo mette anche in discussione tutte le altre persone che stanno procedendo che hanno proceduto nell'esecuzione perché ovviamente qui si sta parlando di un'ipotesi di reato aggravato quindi continuato molto grave che quello di concorso in usura aggravata e queste saranno le contestazioni che abbiamo già fatto tramite un'altra denuncia penale perché chiaramente l'esecuzione non doveva essere portata avanti e questo è un documento ovviamente a questo punto pubblico perché non è più il tecnico Forzoni Maurizio che attesta l'usura dei tassi ma è stata la stessa procura che praticamente ha confermato questo aspetto e quindi ci ha dato ragione perché come si legge nell'atto appunto della procura della Repubblica è scritto preso atto che dall'esame della relazione del CT nominato emerge la manifestazione del reato di usura ipotizzato a carico dell'indagato che aveva sottoscritto il contratto di mutuo. L'indagato era il direttore della banca. Il direttore della banca.